Teddi Reno a Teramo per portare l'anteprima di un tour internazionale. È stata questa la proposta del cantante e attore al primo cittadino Maurizio Brucchi in un incontro informale presso il municipio. 70 anni di carriera celebrati nel 2014, 90 anni compiuti a luglio, Teddi Reno porterà a Teramo il numero zero di un concerto che porterà in giro per il mondo. Io sono diretto orchestralmente da Silvia Pagni. Dirige l'orchestra anche di 26 elementi tutti abruzzesi e andremo a trovare potenzialmente tutte le associazioni abruzzesi nel mondo. Io qui in Abruzzo mi trovo benissimo e quindi sarei felice di poter fare a Teramo una specie di anteprima di questo giro mondiale. Lo scopo dell'iniziativa, come spiega l'artista Triestino, che accenna anche ad alcuni brani storici che fanno parte del suo repertorio, è di riportare la melodia italiana ai fassi del Novecento. La canzone più nota, come dicevo prima al sindaco, in tutto il mondo, in italiano, la numero uno, seguita nel blu di Pinto di Blu o Volare di Modugno, io sono al nono e sedicesimo posto con altre due canzoni, ma la canzone più nota anche dai ragazzini del mondo intero è che bella cosa, una giornata è sole, o sole mio, sta in fronte a me, capito? E quindi dobbiamo riportare nel mondo la grande melodia italiana. Per Brucchi si tratta di un progetto molto interessante perché esprime l'Abruzzo nella musica. Il concerto, se verrà trovato l'accordo definitivo, si terrà nel periodo natalizio al comunale. Lo spettacolo di Tè di Reno, oltre che a Teramo, farà tappa in Vaticano e al Sistina di Roma. Il progetto è interessante perché comunque esprime l'Abruzzo nella musica, insieme ovviamente a Tè di Reno. Stiamo lavorando su una data che potrebbe essere intorno al primo dicembre e prima di Natale. Grazie a tutti.